Ciao a tutti! Nel video di oggi, Chiara, per passare un pomeriggio differente, porta Leo e Vittoria a Luna Park per farli giocare e divertire. La mattinata seguente, Chiara va a farsi un trattamento visorilassante. Vi lascio al video, buona visione! Chiara, Chiara, Chiara! Chiara, Chiara, Chiara! Nel pomeriggio, prima mostra il suo outfit della giornata e poi prova a farci una foto con i bambini, senza riuscirci. Getting ready for today with the new GHD 2 in 1 Styler that dries and styles my hair. And it's amazing! Look how it works! Look how it works! Look at these waves! And this is the final result. Ciao guys! Fit check di oggi dall'ufficio perché amo i capelli così e amo questo look. Stivali Mio Rock, donna Veattico, camicia Chiara Ferragni della nuova collezione, maioncino Ralflore. Adesso tutto il look e poi, dettaglio finale, i nuovi occhiali Chiara Ferragni. Guys, vi faccio vedere la nuova Kaya bag, questo è il modello mini che ha anche la tracolla, è così, e sotto con il logo. St League, attività edizholder, non c'è l'interno che ha anche ioi riuscirla. Alla prossima! Alla prossima! Asi. Uh. Asi.